Ben trovati a una nuova puntata di Piazza Grande. Continuiamo a presentare i nuovi volti che tenteranno la scalata al Comune di Trieste alle prossime elezioni di giugno. Ora siamo in compagnia di Luca Chiavegatti, coordinatore del Triveneto della Destra Sociale. Buonasera, cominciamo a conoscere quindi Luca Chiavegatti, presentati al nostro pubblico che non ti conosce. Buonasera, buonasera a siete spettatori che ci sono di Trieste, io sono Luca Chiavegatti, faccio parte della Destra Sociale, sono uno dei dirigenti Sego il Triveneto e la Destra Sociale è praticamente la rinunificazione del fiamma tricolore, del vecchio movimento sociale e diciamo che stiamo cercando in due anni in questa parte di riuscire a recuperare tutti quei voti, chiamiamoli di protesta che sono, l'ho detto in più in tre viste, deviati verso movimenti come la Lega, come le 5 Stelle, per riportare la nostra identità che sia a destra, di destra sociale, cioè i nostri valori che sono basilari, che sono la famiglia, la casa, il lavoro. Il mio compito è quello di aprire nuove sedi, appunto siamo operativi a Trieste, siamo operativi a Golizia, approssimamente a Pordenone Udini, a Padova Venezia, a Trentino siamo a Merano, per cui diciamo l'importante è avere un riferimento e avere un discorso comune. Per quello che riguarda la mia figura come candidato sindaco ringrazio la mia dirigenza che mi ha dato fiducia in questa opera importante sociale, io vivo a Trieste da 30 anni, ho un figlio di 5 anni, mi occupo, sono un libero professionista, mi occupo di sviluppo di impresa, per cui sono molto a contatto e conoscenza di quello che sono le varie problematiche quotidiane delle piccole e medie imprese. E quello che mi spiace anche e soprattutto è questa carenza, questa mancanza di rapporto chiaro che ci sia dall'amministrazione comunale verso il cittadino. Il cittadino si sente sempre molto in cute e timore, mentre invece dico sempre che le porte non sono aperte, bisogna dare piena trasparenza e bisogna dare supporto a quelle che sono le problematiche quotidiane, dal semplice assistenza domiciliare agli anziani a quello che si ha al mangiare, a quello che si ha l'asilo nido, a quello che si ha la problematica della sanità. Purtroppo in questo inquegno, ma anche nei decenni scorsi, c'è sempre questa prevenza che il sindaco sia un cielo in terra, chissà chi è, mentre invece il sindaco lo intendo come quello che gira per il paese, come quello che gira per la strada, che va a parlare delle problematiche. Quello che sto facendo io, presentandomi fisicamente ai commercianti, mi dicono ma non è mai passato qua il signor Cosurini? Mi dico, non so, avrà tutto da fare, mentre invece ci si rende conto che le vie, quelle che possesse Borgo San Sergio, Valmaura, Altura, Borgo Grotta, Piccina e quant'altro, sono in realtà che se uno non conosce non si rende conto delle semplici marciapiedi, della semplice siepe, del semplice albero che può corrare. Ecco, questo per me è fare il sindaco e la politica del fare. Un uomo che con la politica c'entra e non c'entra, perché? Sì, come dicevo prima, io sono un politicante ma non di mestiere, perché di mestiere sono un libero professionista, mi occupo di sviluppo di impresa, lavoro per una grossa settore di Trieste e quindi seguo le realtà, il mio stipendio me lo guadagno come libero di professione, tant'è che infatti il primo punto nel mio programma elettorale, non è uno spot, ma è una cosa che sarà depositata ufficialmente nel programma, sarà che se nel caso dovesse essere eletto sindaco di Trieste, io devolverò alla cittadinanza bisognosa quello che sia lo stipendio del sindaco di Trieste, che dico altruamente per me è una cosa abbastanza vergognosa, perché sapendo le cifre che abbiamo percepito dai amministratori scorsi, attuali, che in un quinquennio parliamo quasi di 500 mila Euro, sono cifre che invece penso che avrebbero essere devolute alla cittadinanza bisognosa. Ma allora quindi il periodo in cui molti politici, specie nel centro-destra, dicevano la ormai storica frase, sono un imprenditore prestato alla politica, che differenza lei vede? Ma c'è una differenza, diciamo che non è poco, non è marginale, perché le frasi che mi hanno detto anche ai tempi di Berlusconiano, io sono imprenditore, imprenditore prestato alla politica non è vero, perché andiamo agli esempi che chi è entrato in politica ha lasciato quello che è la propria attività, o meglio percepisce dalla propria attività e anche lo stipendio da politico, mentre invece ne intendo come politica del fare, politica del sociale, perché ripeto ancora, se dovessi essere eletto sindaco di Trieste, io non percepisco alcun soldo, perché per me deve essere proprio un'opera. Mi rimasse impresso una fase che disse il senatore Russo, per fare esempio, sono quelli che parlavano, che dicevano che se io dovessi non essere più eletto senatore, io sono un professore di studio universitario, avrei continuato la mia professione, ma evidentemente questo non sembra, perché mi sembra che adesso con le primarie si ricanidi a fare il politico. Si dice che ormai destra e sinistra non esistono sostanzialmente più, invece tu come Fulanic, che però sta a sinistra, devi indicare questa appartenenza, allora cosa vuol dire essere di destra oggi? Adesso di destra oggi per me è una parola importante, è una parola di fierezza, noi siamo, il mio movimento destra sociale è un movimento nazionalista, un movimento patriotico, dove dei valori che sono fondamentali, noi come diciamo no gender per noi è importante la famiglia, la famiglia sono i valori di un genitore, un padre, un figlio, una figlia, il lavoro, il lavoro è una cosa primaria, quindi bisogna dare il dito al lavoro, bisogna creare delle aree dedicate ai nostri cittadini italiani, mentre invece vediamo che ogni giorno vengono create situazioni che vengono agevolate, altre persone che vengono accolte da noi senza magari alcun tipo di bisogno. La salute, questa qua anche la salute è un tema importante su cui bisogna dare, bisogna dare supporto e non più viene proprio a tema qua a città di Trieste perché noi sappiamo che i cittadini italiani hanno una valenza importante per quello che riguarda la città di Trieste e un altro punto su cui io mi batterò nella campagna elettorale è quello di garantire l'assistenza a domiciliari agli anziani. Vista da destra, come intendi tu oggi la sinistra? Quella radicale extra PD o cel bastone del PD? Ma la sinistra ormai diciamo che purtroppo la sinistra è la vera destra, poi io l'intendevo io ho 54 anni ma da quando ho cominciato a fare militante come segretario del fronte della gioventù e del FUAN avevamo il Giorgio Almirante e l'Enrico Berlinguer, purtroppo queste figure non ci sono più, si sono create mille spazzizzature, non si riesce a capire la definizione. Noi come interesse sociale cerchiamo di creare in questi ormai due anni dove abbiamo creato la nostra area una definizione, come dicevo prima, concreta di quello che sono i valori, i valori appunto della vita quotidiana. Per quello che riguarda gli antagonisti della sinistra non c'è più quella figura identificata perché se pensiamo cosa sia un PD, cosa sia Coselle, cosa possono essere le altre entità, questo non ho un'idea. Io ecco 5 anni fa l'elezione del signor Cosolini vendevo bandiere e titine con simboli strani, ecco lì mi sono un attimo raccapizzato, se questa è la sinistra allora a questo punto diciamo siamo tornati dietro i 50 anni. Veniamo un po' alle tue idee di gestione della città. Partiamo dal presupposto che un amministratore deve curare la vita quotidiana e non fare rivoluzioni. Vista da cittadino fuori dei palazzi, cosa trovi che proprio non va? Ma qui c'è una caratteristica, un palazzo, un palazzo Cheba che è un monumento nazionale, penso che sia una piazza più bella d'Europa. Quello che per me è una grande carenza è questo muro che sorge davanti all'amministrazione dove ci sia questo timore di poter dialogare e di avere un riferimento e quindi invece io le intendo come creare proprio un punto di unione con la città e avere un dialogo, non avere timore a rivolgersi a un sindaco o a un problema perché posso usare degli esempi con persone che avevano avuto problematiche molto evidenti e vedevano un sindaco, un sindaco come in Polito non riusciva ad affrontare un tema banale quotidiano, mentre invece penso che un amministratore di una città sia il pari di tutti i cittadini di Trieste e debba cercare di risolvere come un pari di famiglia, il problema ovviamente è intervento ai certi limiti. Trieste in Italia è la città leader per spesa sociale, però sembra che tutto ciò non basti mai. Troppi i triestini che si recano agli uffici del comune. C'è forse un problema che dobbiamo riorganizzare il modo di fare welfare? Ma sicuramente sì, Trieste purtroppo a parte l'unica industria che abbiamo, ahimè ben nota le croniche quotidiane, la ferriera, ma altre grandi realtà di aziende non ci sono, non più tardi di un mese fa tramite un comunicato stampa abbiamo detto appunto la problematica della disoccupazione sia giovanile che anche soldati di 50 anni di triestini che sono senza lavoro, abbiamo un 40% per cui anche quelle famiglie diventeranno bisognose perché o con uno stipendio solo o improvvisamente senza supporto devono andare a chiedere sussistenza e assistenza a quello che sono le amministrazioni. Non più adesso poi con queste anche nuove normative dell'ISEE che non si riesce a capire chi può essere agevolato, stiamo creando, abbiamo creato veramente una nuova area di povertà assoluta e penso che più a segno tempo ne vedremo diciamo costantemente. Una volta nei vari, diciamo, chiamati discount vediamo altre persone, io invece in discount vedo le persone dopo 10 del mese, famiglie italiane, famiglie del signore di 7 età che devono andare a recarsi e cercare di fare la spesa anche con quei 3-4 euro perché effettivamente non c'è lavoro e quello che più si va davanti con questa politica particolare il lavoro viene insieme a mancare. Un ultimo proprio problema che ho fatto presente e che l'ho vissuto in prima persona per verificare è il progetto People che è un progetto che veniva utilizzato dalla provincia per essere in incitivazione a ricollocazione del mondo del lavoro, da esodati o diciamo casi integrati e quant'altro ma per la carenza di fondi della provincia il progetto People al momento non è in essere per cui c'è questa non ricollocazione ed è anche incapibile questo accoglimento di questi profughi che vengono messi qua nella città di Trieste, cosa facciamo fare se no abbiamo lavoro per i nostri cittadini. Bene, noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità, ritorniamo fra poco.